Il prefetto di Sondrio, Salvatore Rosario Pasquariello, chiede ulteriori chiarimenti alla regione sul transito da parte degli appassionati di sport invernali lungo le piste da sci al momento chiuse al pubblico. In particolare la regione il 19 febbraio si era espressa specificando che impianti chiusi non significa automaticamente piste chiuse, facendo però, spiega il prefetto, riferimento esclusivamente alla diffusione del contagio da coronavirus ma non alla sicurezza dei possibili fruitori dei tracciati. In particolare, spiega Pasquariello, se l'interpretazione della norma dovesse consentire l'utilizzo delle piste da sci nonostante la chiusura degli impianti si profilerebbero molteplici criticità. Dalla responsabilità in caso di incidenti la pista chiusa non è più sicura, spiega il prefetto, perché essendo battuta consente una maggiore velocità, comportamenti pericolosi contrastati solitamente da un servizio di vigilanza che con gli impianti fermi non c'è. In caso di incidenti a chi sarebbe attribuibile la colpa, chiede il prefetto. E poi la promiscuità, prosegue Pasquariello, con la presenza indiscriminata sui tracciati di sciatori, slittini, motoslitte e l'elevato rischio di incidenti. È di tutta evidenza, conclude il prefetto, che ha chiesto un parere urgente alla regione, che con le piste chiuse vengono a mancare le condizioni necessarie a garantire sicurezza ai frequentatori delle nostre montagne.